Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il bisonte europeo, noto anche come Bison bonasus, è un mammifero appartenente alla famiglia dei bovide. Questo imponente erbivoro si distingue per la sua corporatura massiccia, con una caratteristica gobba sulla schiena e una folta pelliccia. È il più grande mammifero terrestre in Europa e, nonostante sia stato sull'orlo dell'estinzione, è stato reintrodotto con successo in alcune aree protette. Il bisonte europeo ha una lunghezza che varia tra i 240 e i 350 cm, con un peso che può raggiungere i 1000 kg. Questi animali possono vivere fino a 35 anni. Presentano un mantello marrone scuro, particolarmente folto durante i mesi invernali per proteggersi dal freddo. La loro imponente statura è accompagnata da una testa grande e corna robuste, curvate verso l'alto. Il bisonte europeo si nutre principalmente di erba, foglie e piante. La sua dieta può variare stagionalmente, includendo corteccia e germogli quando l'erba è meno disponibile. Nonostante le sue dimensioni, il numero di predatori naturali è limitato, ma include lupi e orsi, sebbene gli adulti siano raramente attaccati grazie alla loro forza. L'uomo ha rappresentato la maggiore minaccia per il bisonte, sia per la caccia sia per la distruzione del suo habitat. Il bisonte europeo si trova principalmente in aree di prateria, foreste e in parchi nazionali dedicati alla sua conservazione. Originariamente diffuso in tutta Europa, oggi il suo habitat è limitato a zone protette in paesi come Polonia, Bielorussia, Lituania e altre regioni dell'Europa orientale e del Caucaso. Gli sforzi di conservazione hanno aiutato a stabilizzare la popolazione del bisonte europeo, permettendo una lenta ma progressiva reintroduzione in aree dove era precedentemente estinto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.